Tutte le ciamole a qui presenti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Sofia e questo qui è il mio canale chiamato Sophie's Wonderland. Allora, benvenuti in un nuovo video, oggi è l'ultimo video di Animal Crossing, perché poi ripartiamo con io e sono Melanie, che durerà fino a mercoledì. Oggi ho un'altra isola sogno che è molto carina, che è sempre l'Halloween e adesso ne sono già qui, di cui voglio sognare. Mi trovate con questo look da Jasmine di Aladin, cioè la mia principessa Disney preferita. Allora, visiterei di nuovo un suono. Ok. Mosca, esatto. Ok. Mosca è una cittadella o isoletta bellissima. Mi piace veramente tanto. Vabbè, non tanto come le isole che abbiamo, che le cittadelle che abbiamo visitato due, un giorno fa. ma è molto carina. È molto curata come città, devo dire che è molto carina. Curatissimo. Allora, iniziamo da qui. Ok, allora. È tutto ancora stile Halloween, ma mi piace molto. Allora, qui sono già aspettate. Ecco, dammi le stelline. Aspettate. Come posso passare? Dove mi sono andata a infilare? Ok, bene. Ok, qui c'è un altro. Non sono bravo. Una parte in cui posso suonare. Ah, poi qui c'è sopra. Oh, che carino questo posticcino. Aspettate. Ah. Allora. Qui? Ah, che carino. Sono qui. Ok, bene. Tutte zucchette. Oh, che figata. Bello. Qui c'è questo campo di Giacinti. Oh, che carino. Ci sono gli alberi di stelline. Lo sapete? Perché adesso ho capito come si fa a fare gli alberi di stelline. Ecco, questo è l'abitante che è travestito da Fifonia ma si chiama Kale. Happy Halloween. Grazie. Anche se Halloween è già passato da un bel po'. Passiamo qui. Oh, che bello qui. Bello. Un posticino. Allora, qui ci sono dei melli. E qui c'è un fantasminino. che bello. Mi sono andata a imparare tutti questi alberi dove dovevo andare. E... i quattro minuti di video per vedere il suo fria che si è in trapporto da qualche parte. Fantastico. E qui prosegue. Ok. Ah, che bel posticino. Ci sono ancora tutti gli alberi di Halloween. Qui c'è un'abitante, Elsa. che la si può vedere anche nella mappa. Mamma mia, quanti abitanti che ha quest'isola? I miei preferiti di quest'isola abitanti sono Lupilla, Diana che ce l'ho anche su Pocket Camp e Cornelio. Vabbè, Zampa e Arturo. Ok, allora qui. Che bel posticino. Ok, è un po' tenebroso nel senso che ci sono ancora tutti gli alberi di Halloween. Però questa cosa mi piace. Una città spettrale. Mamma mia, che mi sembra di essere in un labirinto. Vabbè, procediamo. Oh, che bini. Ma com'è che sono venuta? Ah, che bello. Scusate, a volte mi sperdo da qualche parte. Ok, qui ci sono le lapidi. Un posto molto carino. Ah, ciao, l'opello. L'opello, vabbè. in realtà mi domando se tu sei reale a tre lapidi. Qui c'è la casa di Antilio. Vabbè, anche lui simpatico. Poi, qui, qui. Qui invece c'è la casetta di Arturo che è in casa ma adesso non voglio entrare. Non lo voglio disturbare. Non so voi ma io tra lupilla e lupilia mi confondo sempre, ma sempre. Allora, andiamo anche qui. Mi sa che c'è un sentore che ci sono già passata, infatti. qui c'è un mercatino con tutti i fiorellini che carini. Una babperia per favore non scadere che sto registrando un video. Ok, allora. Allora, adesso se io trovo la sartoria vi faccio vedere in che punto è. perché la sartoria non devo andare un po' più avanti. Aspettate, vi faccio vedere la sartoria in che modo è stata collocata. La sartoria di Aguefido. Allora, intanto qui c'era la bottega di Nucca. Qui c'è un bar. Ok, bene. Allora, qui c'è un museo che non è gli amperi di stelline che vorrei andare a la scuopera ma non posso. Cos'è? La metti di stella, bene. Allora. Io dove che devo andare? Oh mio Dio, io dove mi vado sempre a infilare? vabbè, proseguiamo. Di qui? Ok. Ok. che bello, ho già speso tanto di quelle stelline. Allora, ecco il fungo. allora ragazzi, visto che la batteria mi sta quasi scadendo, vi ho fatto un giro della città, magari poi l'approfondiremo meglio. Adesso sono di fretta. Comunque, è una bella città, molto carina. batteria, batteria, non mi sta bene, tieni duro. Tieni duro, batteria. Tieni duro. Ok, quindi io ho questo look da Jasmine, che vedo come... Ecco, questo è uno dei miei nuovi look, memorizzatelo. Comunque, io vi mando un bacione, un abbraccio e...